Maria diceva che le serviva più spazio. Allora l'ho detto che andiamo a casa. Tante ho un'ottima ditta, vedrà. E saranno tutto loro. Mi sono finato del mio sesto senso senza consultare le recensioni di Traspilot. Perché il mio fiuto non sbaglia quasi mai. Adesso Maria dice che le serve più tempo. Più tempo lontano da me. Grazie.